Sempre fresco e allegro, Petrani. Continuiamo il nostro percorso e adesso affrontiamo il tema delle trascrizioni dall'opera per organo. Questa sera ascolteremo la meditazione sul tema di Thaïs, di Massanè. La meditazione è un intermezzo sinfonico del secondo atto dell'opera Thaïs. Nella prima scena del secondo atto, a Tamarèm, un frate, affronta Thaïs una bella e elonistica contigiana e tenta di convincerla a lasciare la sua vita di lusso e di piacere per trovare la salvezza attraverso Dio. È un momento religioso di riflessione, unione, passione e religiosità, sottolineato dalla cantabilità del Dio. Dopo la meditazione, Thaïs dice alla Tamarèm, che lei lo seguirà nel deserto. La trascrizione per organo che questa sera ascolteremo è stata effettuata da Duel. e che lei lo seguirà nel deserto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.